Musica Le sette in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. In primo piano sui giornali di oggi innanzitutto il caso Gregoretti, perché ieri la giunta del regolamento ha deciso, con il voto decisivo del Presidente del Senato Casellati, che la giunta per l'immunità voterà sulla richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Salvini lunedì prossimo. Un voto, quello della Casellati, che ha fatto infuriare la maggioranza, che ne chiede le dimissioni, sostenendo che adesso la Casellati non è più super partes. Si parla poi anche di tasse, perché ieri il Governo ha esposto ai sindacati il piano per un taglio del cuneo fiscale per erediti più bassi. I sindacati soddisfatti perché è un primo passo sulla strada giusta, ma naturalmente guardano già oltre. Poi per quanto riguarda gli esteri si parla di due argomenti principali, quelli che sono stati alla ribalta negli ultimi giorni. Dunque l'Iran, con il ritorno della Guida Suprema a Likhamenei a guidare il Sermone del Venerdì, lo fa sempre in momenti difficili per il Paese. Non lo faceva da ben otto anni, ha attaccato duramente gli Stati Uniti. E poi si parla della Libia, perché domani c'è la conferenza, la tanta attesa conferenza di Berlino, per cercare appunto di stabilire questa tregua. Una conferenza che per la verità rischia di partire già tutta in salita. Non soltanto per le premesse, ma anche perché potrebbe esserci un passo indietro di Sarraj. Si chiarirà nelle prossime ore. Allora partiamo con il Corriere della Sera. Vedete titolo principale, voto su Salvini. Irapi di Movimento 5 Stelle, il caso del processo per la Gregoretti e la Cassazione, che dà ragione a Carola Rachete, era ingiusto arrestarla. Accusi alla Casellati, decisiva per evitare il rinvio. Lei, che invece ha sottolineato, non sono di parte. Oggi c'è un'intervista al leader della Lega, Matteo Salvini, sul Corriere della Sera. Io, la Presidente, abbiamo parlato di altro. Ancora vedete la questione che riguarda il fisco di spalla sulle buste paga per 16 milioni di dipendenti. Poi ancora si parla degli esteri. La Guida Suprema, che non parlava dal 2012, la preghiera anti-Stati Uniti di Kamenei, ci pugnaleranno alle spalle. E ancora la conferenza di domani a Berlino. Non si parlerà della missione in Libia. Apertura della Repubblica. Ora l'Europa ha un piano. Non parliamo di migranti. Intervista al nuovo commissario Schinas. Patto solidale per accoglimenti e rimpatri. Polizia e navi dell'Unione alle frontiere. Caso Gregoretti. Lunedì il voto in giunta. Come voleva Salvini. Decisiva la Casellati. Idem la Presidente del Senato. Non è imparziale. Governo Conte risponde alle sardine. Sono pronto a incontrarvi. Sardini, appunto, che hanno chiesto una faccia a faccia con il Presidente del Consiglio. Il fisco. Il bonus da 100 euro sgravi per 16 milioni di dipendenti. Meno tasse per i redditi fino a 40 mila euro. E Castelli. Oggi c'è un'intervista. Adesso assegno per i lavoratori poveri. In taglio basso vi segnalo la morte di Anastasi. Il bomber del Sud che unì l'Italia. Aveva 71 anni. Apertura della stampa dove c'è un colloquio con la Ministra dell'Interno Lamorgese. Task Force contro la mafia in Puglia. Sicurezza sì del governo alla pistola elettronica per le forze dell'ordine. Con i dubbi però dei sindacati in caso di morte o feriti. Si rischiano sanzioni penali. C'è questo colloquio appunto con la Ministra dell'Interno dopo le bombe a Foggia. E ancora la Casellati aiuta la Lega. Effetto Gregoretti sulle elezioni emiliane. E poi ancora Trump che si affida agli avvocati delle superstar per quanto riguarda la questione dell'impeachment. Che sappiamo è arrivata al Senato. C'è un reportaggio oggi sulla stampa che volevo segnalarvi. Traditi da tutti i soldati curdi soli contro l'Isis. Andiamo a vedere l'apertura del messaggero. Anche questa dedicata alla questione delle tasse sul lavoro. Che vengono ridotte gli aumenti in busta paga. Da luglio mini tagli per 16 milioni di dipendenti. Benefici per i redditi fino a 40 mila euro. Scontro sui 5 miliardi da dirottare alla riforma IRPEF. Ancora il caso Gregoretti. Il voto su Salvini strappo al Senato. La maggioranza lunedì non andrà. Questa appunto sarebbe l'intenzione. E poi ancora sempre dal messaggero. A centro pagina l'Iran. Kamenei che lancia l'anatema. Chi si ribella sta con gli americani. Si parla naturalmente di questioni romane sul messaggero. In questo caso legate alla stretta anti-smog di questi giorni. Alla frenata della Raggi. Regole da rivedere. Oggi si circola ma domani c'è il blocco ecologico. Romani spaisati. Tornano in forse i diesel Euro 6. E poi ancora in arrivo pene più dura a Torino. Prime misure speciali per i medici aggrediti. Vigilantes in Corsia. Andiamo a vedere anche l'apertura del Sole 24 Ore. Il quotidiano economico naturalmente dedicato questa mattina al fisco. Per 16 milioni di contribuenti sconti da 16 a 100 euro al mese. Piano illustrato ai sindacati. Benefici al via dal primo di luglio per i redditi fino a 40 mila euro. Per 4,3 milioni di dipendenti oggi esclusi dagli 80 euro. Incrementi fino al 5,6%. Per chi aveva già il vecchio bonus il reddito disponibile cresce di 20 euro al mese. Poi ancora così l'impatto in busta paga premiati di più i redditi della fascia 26-29 mila euro. E poi ancora vi volevo segnalare per quanto riguarda l'economia cinese. Ferma a più 6,1% è la crescita più lenta dal 1990. Bene, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e riprendiamo subito dopo con la Rassegna Stampa. Bentornati in studio, proseguiamo con la Rassegna Stampa. Siamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Vediamo insieme il titolo principale. Bibiano, sardine sfrattate per dare la piazza a Salvini. Il questore chiama Santori, ritiratevi. Il movimento aveva bruciato il capo leghista sul tempo per il comizio del 23. La Questura ora pretende che rinunci e gli ceda il posto. Andiamo a vedere l'apertura del giornale. Eccola qui, tutti uniti per gli immigrati. Il governo, carola, per i giudici la racchetta non andava arrestata. Conte corre ad aiutare le ONG. Gregoretti lunedì si vota su Salvini, PD e 5 Stelle in fuga. Apertura di Libero, eccola qui, imprenditori eroici. L'Italia se ne frega della politica. Salgono i guadagni, i record dal 1991 per l'avanzo commerciale che sfiora 48 miliardi alla faccia dei catastrofisti su Brexit. Trump e siamo primi in Europa per giovani agricoltori. Apertura del manifesto dedicata alla decisione della Cassazione su Carola Rachete. Carola non si lega, agito per necessità, non andava arrestata. La Cassazione respinge il ricorso della procura di agrigento contro la scarcerazione della comandante della Sea-Watch. 3. Apertura del tempo, eccola qui. La verità nascosta sull'IVA, il governo ha bleffato. Il Conte Bis è nato spacciando l'emergenza di 23 miliardi di aumenti da scongiurare. Era falso, ben 20 miliardi sono stati trovati facendo deficit. Altri tre tagliando quota 100 e flat tax di Salvini. La verità, eccola qui. Per la Cassazione le ONG possono speronare il nostro emoto vedette. i giudici bocciano il ricorso contro l'ordinanza che aveva rimesso in libertà la racchetta e salvava vite, non andava arrestato. Una novità che rischia di influenzare l'atteggiamento delle forze dell'ordine richiedenti asilo presi per impacchettare pennarelli e trattati come schiavi. Poi ancora si parla della vicenda della possibile revoca ad autostrade. Per Benetton e Company 10 miliardi, per le strade 5 l'offerta di autostrade al governo una confessione involontaria. In questi anni la manutenzione è mancata, nessuno si deve vendere, la procura apre un fascicolo per le presunte pressioni sui periti del Morandi. Andiamo a vedere anche l'apertura, eccola qui, dell'avvenire. Tasse, primi tagli e poi si parla dell'Iran, Kamenei che minaccia ancora l'America e l'apertura del mattino, eccola qui, tagliate le tasse sul lavoro, buste paga, ecco gli aumenti. Allora andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani e partiamo dalla questione del caso Gregoretti. Eccola qui, il processo a Salvini si vota lunedì, la Casellati decisiva, l'ira di PD e Movimento 5 Stelle, Zingaretti che ha detto appunto scorretta e l'ex presidente Schifani di Forza Italia invece che dice che avrebbe votato come lei, la Boschi, non ci sembra che il leader leghista sia stato perseguitato dai giudici. Ci siamo sul Corriere della Sera da cui vi segnalo questa intervista ad Andrea Marcucci del PD che dice scelta di campo gravissima da oggi non è più parte terza. Leggiamo una parte di questa intervista. Voi dite che è avvenuta una votazione illegittima ma in realtà il regolamento non vieta alla presidente di votare. In ordine teorico certo che può votare ma per prassi il presidente del Senato non vota proprio per garantire la sua terzietà lei ha gettato la maschera, ne prendiamo atto a questo punto. La consideriamo non una parte terza ma una controparte politica. Quello che è avvenuto è quasi più grave del sequestro della Gregoretti da parte di Salvini. Non è forse vero che voi non volete che Salvini venga condannato dalla Giunta il 20 per evitare che si trasformi in vittima in quest'ultimo scorcio di campagna elettorale. Non volete che venga condannato. A parte il fatto che non è una condanna perché la Giunta non emette condanne. Peraltro sono stati Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia a chiedere che i termini scadessero oggi. Abbiamo votato all'unanimità un voto che 30 minuti dopo il presidente del Senato ha contraddetto e questo è il vero punto che resta da chiarire. Potreste disertare la Giunta lunedì? Ora valuteremo, dobbiamo esaminare la situazione insieme ad altri partiti della maggioranza. Sempre dalla Corriere della Sera invece vi segnaro l'altra intervista a Gasparri di Forza Italia. Nessuna regola vieta alla Presidente di esprimere le sue convinzioni. Non è scritto da nessuna parte che i presidenti non debbano votare. Pochi giorni fa la Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Cinque Stelle è stata decisiva per sopprimere un emendamento e nessuno ha protestato. Il ruolo del Presidente del Senato è diverso però gli viene fatto notare. Il Presidente del Senato non è precluso esprimere i propri convincimenti. Perché nessuno parla del merito della questione. Anche il Premier sapeva del fermo della nave, dice appunto Gasparri. E poi c'è la risposta della Casellati appunto che in una nota ha detto dovevo garantire il Senato, ho fatto il mio dovere, senza nessuna connotazione politica. Ha spiegato la Casellati. Vi segnalo rapidamente dal Corriere della Sera anche quest'intervista a Matteo Salvini. Io e la Presidente è vero ci siamo visti ma per parlare di altro e sulla consulta da una corte di sinistra, decisione di sinistra. Per quanto riguarda appunto il respingimento del referendum sul maggioritario che era stato promosso dalla Lega. Pensare che ci siano magistrati di una decina di tribunali in Italia che hanno tempo e denaro da perdere con me non vede che spreco che c'è, dice appunto in questa intervista Salvini. La cosa più squalida di questi giorni è la vergogna che provano il PD e i 5 Stelle. Vogliono mandarmi a processo ma vorrebbero farlo dopo le elezioni. Il proporzionale con la soglia al 5% sarebbe un passo indietro di 40 anni. Partiti e partitini che fanno il bello e il cattivo tempo. Questo in sintesi alcuni dei temi che trovate in questa intervista a Matteo Salvini sul Corriere della Sera. Spostiamoci sul messaggero perché i giallorossi diserteranno niente assist per le regionali. La maggioranza non sarà alla seduta. Il centrodestra voterà a favore di Salvini la resa dei conti a febbraio dopo le elezioni in Emilia Romagna. Gasparri che sbotta. Qui nessuno parla di merito. Appunto disertare la seduta per fare in modo che lunedì la giunta delle autorizzazioni del Senato neghi il processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Sì, proprio così. Attenzione però al tutto ben sapendo che a febbraio tra un mese il parere verrà ribaltato. La maggioranza questa volta sarà in prima fila a Palazzo Madame per dare al contrario il via libera al procedimento penale. La decisione sarà presa lunedì mattina durante una riunione di maggioranza. Ma la strada che vogliono intraprendere ormai è tracciata e appunto sarebbe questa. Questo appunto è quanto ci dice il retroscena che ci racconta il messaggero. E andiamo avanti e vediamo rapidamente un paio di pagine sulla questione appunto del cuneo fiscale. C'è questo accordo con i sindacati. Da luglio 3 miliardi a 16 milioni di lavoratori. Siamo sulla Repubblica da cui vi volevo segnalare però questa intervista a Laura Castelli, vice ministra appunto che dice ora daremo un assegno a chi ha un reddito troppo basso. La riforma può costare meno di 20 miliardi, dipende da come si agisce. Noi dei 5 Stelle puntiamo ad introdurre il quoziente familiare. Spostiamoci sulla questione degli esteri perché domani parte la conferenza di Berlino sulla Libia, missili turchi a difesa di Tripoli. A Berlino si tratta la tregua, la conferenza che è stata fortemente voluta dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea. Stanze separate per Haftar e Sarraj. Anche se è dell'ultima ora appunto anche un possibile passo indietro da parte di Sarraj. Vedremo appunto quale sarà poi la sua decisione definitiva. L'obiettivo è l'embargo militare, nuovo fronte con la Grecia irritata dalle mire della Turchia sul gas del Mediterraneo e del gas appunto al centro del contendere. E questo schema appunto ci spiega un po' quale sarà il tavolo della conferenza. A cui ricordiamo ci saranno anche gli Stati Uniti con il segretario di Stato americano Pompeo che porta in scena ci raccontano appunto l'equidistanza americana. Poi c'è la frenata di Macron a sostegno di Haftar e poi l'Egitto e gli emirati arabi, la fura del Cairo e di Abu Dhabi contro l'odiato sultano. Quindi una questione che parte comunque in salita. Vi segnalo questa intervista all'inviato delle Nazioni Unite Salamè che dice basta mandare armi o questo incendio ci colpirà tutti. Quindi un alto là da parte delle Nazioni Unite. E ancora sempre sulla questione della Libia, l'incognita mosca sulla Libia, Roma che cerca la mediazione sulla bozza finale dell'intesa. E poi appunto anche un approfondimento, siamo sulla stampa, sulla grande corsa al gas naturale che unisce i piani di Russia e Turchia. Haftar accolto con un capo di Stato ad Atene che è pronta a mettere il veto sull'accordo di pace. Quindi c'è questo braccio di ferro sulla questione del gas. Ancora per quanto riguarda gli esteri, un'occhiata all'Iran dove è tornato Kamenei che ha sfidato la piazza a proteste pilotate dai pagliacci americani, ha accusato duramente, ha parlato nel sermone del venerdì dopo 12 anni, prova a riprendere in mano il regime scosso dalle manifestazioni. I manifestanti sono solo centinaia di persone che stracciano i manifesti, ha detto, di Soleimani. E ancora vediamo rapidamente, dunque la questione della Libia l'abbiamo vista, andiamo avanti. Volevo farvi vedere rapidamente anche sul messaggero, si parla di migranti, 100.000 regolari in più e posti di lavoro persi, i danni dei decreti sicurezza. E poi vi segnalo questa intervista al commissario europeo migranti. Si cambia patto sui rimpatri e polizia europea. L'accordo tra Italia, Francia e Germania in Malta sta funzionando. Da settembre sono state redistribuite 400 persone che erano sbarcate. Bene, è tutto per la rassegna stampa, la linea Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo. Sono le piogge previste per la prima parte della giornata di oggi, è evidente l'attenuazione dei fenomeni sulla zona di nord-ovest, Liguria di Ponente, mentre sulla parte centro-orientale del nord ci sono ancora piogge piuttosto intense. Più intense in pianura, vedete Emilia Romagna, Veneto, parte meridionale della Lombardia, perché quando si va verso le Alpi troviamo precipitazioni più deboli, che saranno nevose a quote, abbiamo detto anche ieri, intorno ai mille metri o poco sotto. Però la parte più intensa è questa, che si estende anche al centro-sud, inizialmente, cioè per quello che riguarda il sud, solo sul versante tirrenico. Su quello adriatico di piogge ce ne sono poche. E miglioramento anche a ovest con Sardegna e Corsica. Seconda parte della giornata di oggi, ulteriore spostamento della zona di maltempo più intenso, che si va a posizionare quasi esclusivamente proprio sull'Adriatico, sul mare, però le zone costiere ne sono interessate, le piogge al centro e al sud sono isolate, neanche moderate, insomma. Quindi il nucleo più forte è questo. Qualche pioggia si affaccia da ovest vicino sui mari di Corsica e Sardegna. Vediamo tutta la giornata di domani. Vedete che ancora rimane, in realtà, quindi è una zona di bassa pressione, è diventata una zona di bassa pressione, quindi è un po' attiva. E quindi sui versanti adriatici centro-settenzionali e sul basso tirreno le piogge ci sono più intense queste. Però vedete che il grigio, le piogge si riaffacciano anche sulle zone occidentali e a largo, verso le Baleari, le zone in rosso di una nuova intensa zona di maltempo. Vediamo dove va a finire, perché andiamo a vedere la giornata di lunedì. Resta ancora l'instabilità localmente forte sul versante adriatico, con le nevi catre, le temperature vedremo che scendono, sull'Appennino possono arrivare fino ai 500-600 metri. E il forte maltempo, molto forte, che prende Corsica e Sardegna con precipitazioni particolarmente abbondanti. Vediamo le temperature di questa mattina, sono risalite al nord rispetto alla giornata di ieri e anche al centro-sud risentono di questa prima fase di aumento, perché poi scenderanno di nuovo. Chiudiamo con lo stato dei mari, non più tranquilli come i giorni scorsi, lo sono ancora quelli orientali, ma da ovest, con venti appunto da ovest-nord-ovest tendono a diventare facilmente molto mossi per il momento. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale. È più tardi.